Siamo appena usciti dalla tavola rotonda, ha emerso il valore della formazione, quanto è importante fare una buona formazione. Io penso che la formazione finanziata, proprio in questo senso, aiuta le aziende a ritrovare il valore della formazione. Vincoli che vengono percepiti di fatto non ci sono. Non ci sono se effettivamente si pensa a un progetto ben programmato e ben legato a quelle che sono le strategie di sviluppo aziendali. Chiaramente utilizzando come supporto e facilitazione del cambiamento organizzativo la formazione e metodologie innovative per fare formazione bene, raggiungendo risultati, obiettivi formativi concreti e utili all'azienda e spendendo bene.